Ricordate, un giorno senza sorriso è un giorno perso, Charlie Chaplin. Buongiorno, buongiorno e buon venerdì 30 luglio. Domani il Milan torna in campo per la prima delle sfide internazionali che lo vedrà impegnato contro il Nizza, appunto domani sera alle 20.30 all'Allianz Riviera, poi col Valencia, ancora con il Real Madrid a Klagenfurt e poi contro il Panathinaikos a Trieste. La sfida contro il Nizza, sono già in Francia, sono già bello concentrato per questa partita molto attesa qui a Nizza. È una sfida che vedrà il debutto probabilmente in maglia rosso-nera di Mignan e di Giroud con la maglia numero 9. Nizza Milan che ricorda le sfide di tanti anni fa per la Coppa Latina, ricordo delle sfide Nizza Milan di tanti, 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 tanti anni fa. Parlavo di questo match ma oggi dobbiamo parlare dell'incontro tra Giorgia Tananga e Ricky Massara. Si è tenuto a Bologna nel pomeriggio di ieri, pensiamo davanti a un buon piatto di tortellini ma non ne siamo assolutamente sicuri, ma attenzione abbiamo il mio titolo, è tutto su questo incontro perché sappiamo come si è svolto, ricordiamo che il primo incontro era terminato in maniera burrascosa perché la parte dell'entourage di Chessy aveva ritenuto quasi offensiva l'offerta del Milan che pure percentualmente era un'offerta di quasi il doppio, quasi il 100% in più rispetto a quello che prendeva Chessy. Ma erano altre le pretese. Allora, lavoro diplomatico, ieri era assente Paolo Maldini ma Ricky Massara e Giorgia Tananga hanno incominciato a mettere le basi per i futuri 2-1-2 incontri per chiudere perché c'è la volontà generale di chiudere. Dicevo tutto sull'incontro, non si è parlato di cifre, non si è parlato di cifre precise ma Giorgia Tananga ha capito la volontà del Milan che segue le parole di Chessy di venire incontro ai desideri per onorare uno dei migliori centrocampisti d'Europa per onorare uno dei protagonisti del grande Milan della scorsa stagione. Tananga ha capito questo sentimento del Milan e quindi diciamo che le questioni si sono appianate Sicuramente il Milan non sappiamo fin dove andrà per accontentare l'entourage di Chessy e per accontentare i desideri della gente, del giocatore ivoriano ma indubbiamente si andrà sui 5 milioni e mezzo 6 e vediamo se si salirà oltre. Ieri, ripeto, di cifre non si è parlato ma serviva un incontro, guardarsi negli occhi, capire anche se continuo a ribadire che le parole di Chessy sono state fondamentali per dare una scossa appunto alla trattativa. La prima trattativa c'è stata, ne seguirà un'altra sempre preparata dai diplomatici nelle due parti che poi alla fine sono Tananga e Ricky Massara che hanno usato le armi diplomatiche poi l'incontro decisivo probabilmente vedrà protagonista sempre a Tananga, sempre Ricky Massara ma poi Fren Chessy e Paolo Maldini che si guarderanno negli occhi. Pensavo che non ci fossero forse questi incontri preparatori e infatti avevo sempre detto l'incontro decisivo sarà tra Chessy e Maldini ma questo incontro di ieri a Bologna ecco perché parlavo piatto di Tortellini non vi avevo detto, Bologna è stato il primo incontro, forse un secondo perché quando si vedranno negli occhi Chessy e Paolo Maldini ormai la situazione dovrebbe essere molto chiara dovrebbe essere solamente il giorno delle firme il giorno della conclusione di una trattativa che si pensava complicatissima solo perché il primo incontro non c'è stato il Milan, vi ho sempre detto aveva intenzione di chiudere la questione prima dell'inizio del campionato c'è una cosa che quando vi dico dovete anche voi come lo sto anch'io capendo quando il Milan e i dirigenti del Milan dicono una cosa poi questa cosa avviene è capitato il 24 maggio attenzione lo ripeto spesso il 24 maggio chiuderemo la questione dopo Donnarumma puntuale puntuale Tomori puntuale Tonali puntuale l'alternativa Teo Hernandez puntuale Brian Diaz puntuale Giroud puntuale ora l'accordo prossimo con che sì quando dicono danno delle scadenze delle date avvengono sempre mi avevo detto vogliono chiudere c'era questa gran premura ma che sì ma che sì ma il Milan calma il Milan ha detto abbiamo tutte le intenzioni e le intenzioni sono partite con questo incontro tra Giorgia Tananga e Ricky Massara quindi chiusa questa trattativa che si chiuderà probabilmente al ritorno di che si che dovrà giocare con la Spagna sabato i quarti di finale delle Olimpiadi vedremo le Olimpiadi finiscono l'8 di agosto quindi o la settimana prossima in caso di sfortunata eliminazione o dopo l'arrivo dopo la fine delle Olimpiadi che si si presenterà firmerà e ci si potrà dedicare e ci si potrà dedicare al contratto di Teo Hernandez che scade nel 2024 che diventa una cosa urgentissima finalmente ci si potrà dedicare al contratto di Teo Hernandez del 2024 e poi ci si potrà dedicare al contratto di un altro giocatore del 2030 perché bisogna parlare sempre dei contratti del Milan questo di che sì 2022 ma bisogna parlare di quello di Teo Hernandez del 2024 per un altro del 2027 speriamo che risolta la questione che sì ci si concentri un po' da tutti ai prossimi giocatori che devono rendere la squadra forte quest'anno non nel 2024 quindi per qualche giorno ci dovremmo dedicare a quello e non ai contratti del Milan che scadono nel 2052 quindi sono contento che si chiuderà questa parentesi dei rinnovi perché di questa proprietà di questa società di questi dirigenti bisogna sempre dubitare e loro tranquillamente serenamente cercano di arrivare agli obiettivi perso l'obiettivo Caio Giorgia già si diceva attenzione possibile ma ci sono delle complicazioni sembra secondo gli agenti il giocatore avrebbe la scadenza come pensavamo tutti nel 2021 a dicembre perché a 16 anni avrebbe firmato tre anni non si può firmare in più il Santos dice non è vero ha un contratto fino al 2022 o al 2023 il Santos dice a noi interesserebbero 25 milioni ma potremmo venderlo per 15 che è tutta una cosa diversa rispetto a quella che si diceva prima cioè a zero a dicembre con magari due o tre milioni adesso per il Santos per il Santos per farlo arrivare prima ma non è un problema del Milan però volevo dirvi che la questione Caio Giorgio che venga al Milan che sembra proprio di no perché se il Milan già non voleva andare ad aste non voleva dare delle cifre alte al Santos ma voleva dedicarsi solo alla trattativa con il giocatore ha maggior ragione se fosse vera questa notizia che arriva dal Santos di un contratto che termina nel 2022 2023 non se ne parla neanche vediamo se il Milan andrà come è possibile come sembra possibile ma non è sicuro su Colomuani giocatore del Nant vedremo con l'evolversi dei giorni ma i ruoli più importanti perché là si parla di terza punta è quello del numero 7 quella del numero numero 10 dico sempre numero 10 diciamo del trequartista ma quello che più conta il Milan ha detto chiuderemo con che sì prima dell'inizio del campionato ed è il settimo colpo dopo che ha promesso sei volte le ha mantenute le sue proesse questa di che sì quindi per buona pace di quelli che dicevano adesso il Milan perderà un altro giocatore a zero invece il Milan non perderà un giocatore a zero per la volontà dei dirigenti della proprietà ma per grande volontà di che sì e che dirige il suo agente secondo i suoi desideri non come è successo magari in altre trattative se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pellegati e vedremo se oggi ci saranno altre notizie altre novità ma l'incontro a Tananga Massara è stato un punto fermo di questa estate di mercato come del resto ci avevano detto grazie a tutti